Oggi a Volley Zap portiamo virtualmente a Latina per fare due chiacchiere con lo schiacciatore olandese della cisterna volley Martin van Garderen. Ciao spettatori di Volley Zap, io sono Martin van Garderen, questa è casa mia dove sono già da tanti giorni, come sapete non si esce quindi sarà l'ambiente di questa intervista. La mia famiglia è piena di pallavolisti, mio babbo allenava, mio fratello giocava, poi mio zio Enki ha fatto tantissimi anni in Italia, il 96 con Olanda, ad Atlanta ha vinto l'oro contro l'Italia, è una partita che avrò visto, non lo so, 40 volte, però ero l'unico praticamente che giocavo ancora a calcio fino a 13 anni, fino a un punto dove mio babbo aveva bisogno di giocatori perché mancavano. Ho fatto un elemento di pallavolo e è nato da lì, mi è piaciuto subito tanto e sono arrivato dove sono adesso. Allora, riguardando il cibo, ovviamente qui si mangia da Dio, non mi lamento, non manca niente. Sono due cose che io porto sempre dietro dall'Olanda, che sono questi biscotti, si chiamano Stroke Waffle, biscotti con caramello dentro, buonissimi, li porto sempre ai ragazzi. Questa salsa qua che si chiama satay sauce, è una salsa su base di arachidi e soia che si riscalda e è molto buono con la carne e il pane. L'ultima cosa che mi manca tanto dall'Olanda, strade senza buchi. Quando io proprio non voglio più sapere di niente, di nessuno che voglio proprio staccarmi, mi metto queste cuffie qua, metto la mia musica, che è la mia musica house e tecno, una genere che a me piace molto, va molto boom boom, ma io ascoltando sta musica mi rilasso proprio, mi stacco completamente. Grazie a tutti.